Suona la campanella ed è già caos scuole a Barletta. Questa mattina il liceo scientifico Carlo Cafiero ha dovuto interrompere bruscamente le lezioni ed evacuare l'istituto per un caso di covid tra gli studenti dell'ultimo anno. Anche la madre del ragazzo è risultata positiva al coronavirus, costringendo la dirigenza della scuola elementare Girondi, in cui la donna insegna, a chiudere anche quest'istituto. Ieri era toccato ai treplessi del comprensivo Pietro Mennea a chiudere i battenti dopo il contagio accertato di sette insegnanti. In tutte le scuole colpite dal virus sono in corso le indagini epidemiologiche da parte della ASL sui contatti stretti dei contagiati. È stata convocata per oggi pomeriggio una riunione in prefettura a cui prenderanno parte il comune e la provincia per affrontare l'emergenza covid nelle scuole. Intanto nella provincia Bat sono cinque i nuovi casi di coronavirus inseriti nel bollettino epidemiologico del 24 settembre.